Un grande risultato della città che abbiamo fortemente voluto, ma che soprattutto Pommel Cartene ha fortemente voluto, come è stato detto dal suo manager in Italia Mimmo D'Alessandro, ha scelto Napoli come prima tappa italiana, delle due tappe italiane, quindi 10 giugno Napoli, 13 giugno Lucca, siamo entusiasti, abbiamo dato un grosso contributo perché non è facile mettere a disposizione Piazza del Plebiscito, come sapete, per i tanti vincoli, per lo stesso cantiere della metropolitana, però abbiamo trovato disponibilità importante da parte sia del ministro Franceschini in persona, sia del sovrintendente di Napoli, che li ringrazio, ma credo che la cifra della potenza di Napoli si misura dal fatto che artisti di livello top mondiale come McCartney scelgono Napoli, quindi questo ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Quali sono i problemi logistici da risolvere? Sono tanti problemi, ma tutti superabili, nel senso che per arrivare a questo vuol dire che già li abbiamo superati sulla carta, adesso si devono mettere in campo le azioni, però siamo molto tranquilli e consapevoli che sarà un grande concerto organizzato al meglio e che Napoli farà un figurone, speriamo che ci sia il pienone, dai primi dati che abbiamo già si ha la sensazione che verranno da tutte le parti del mondo a vedere questo concerto, quindi non è un concerto solo per napoletani, ma in quei giorni Napoli sarà il centro del turismo e della cultura internazionale. Poi, come abbiamo detto in conferenza stampa, ci può essere anche un ragionamento di accompagnamento di un percorso, quindi potremmo anche pensare insieme all'assessore De Maio di costruire un ragionamento per il maggio di avvicinamento a questo concerto, insomma, perché questo parliamo veramente di uno dei più grandi mostri sacri di sempre della musica, dai Beatles ad oggi, quindi credo che non può limitarsi a un evento, seppur straordinario come quello del 10 giugno, ma si può costruire anche un percorso di accompagnamento, una specie di itinerario musicale e culturale che poi culmina con il concerto del 10 giugno. Quanti saranno i posti? Come più? In Viscito o in altri luoghi? No, 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 in altri luoghi. Quanti saranno i posti? No, non lo so, questo lo chiede agli organizzatori. Il 10 giugno è una data in cui Napoli è già da alcuni anni positivamente esplosa di turisti, diciamo, ci sarà un aumento, reggerà, gli albergatori sono pronti? Guardi, vi devo dire la verità, il tema culturale e turistico va riempito di contenuti, di strategie e anche di cose nuove che dobbiamo fare nel 2020. I dati che abbiamo sono veramente sorprendenti. l'altro giorno ho incontrato degli operatori del Nord Italia che volevano organizzare una cosa su Pasqua 2020 e stanno avendo problemi a trovare un posto letto nella nostra città e parliamo di qualcosa che arriverà fra sei mesi. Adesso semmai la nostra sfida è quella di far trovare Napoli in condizioni migliori ancora di più del 2019, quindi l'impegno adesso del sindaco di Napoli e dei napoletani, del sindaco di Napoli prima e dei napoletani immediatamente dopo, è quello di mettere in campo tutte le azioni per migliorare l'attrattività, i servizi e la qualità della vita. Questa è una grande sfida che ci impegna, ci impegna in queste ore, anche stasera abbiamo una pregiunta molto delicata perché chiaramente noi ce li siamo conquistati questi posti nel top internazionale. Oggi se vai a New York, vai a Londra, vai a Parigi si parla di Napoli. Basta pensare alla scelta del sovrintendente Stefan Lisner che ha scelto Napoli, Pommelkarte, potrei fare veramente un esempio, un elenco lungo, però non abbiamo ancora una città da un punto di vista dei servizi all'altezza di essere al top, quindi questa è la sfida che io ci metto alla faccia ogni giorno, mi arrabbio anche molto spesso, si fa un lavoro di squadra, si fanno dei cambi come anche in queste ore in alcuni comparti decisivi, ho bisogno in questo del sostegno chiaramente dei napoletani perché non è pensabile che ci sia un sindaco taumaturgo o dotato di poteri magici, il momento storico è tra i più difficili, tant'è vero che dobbiamo dire che Napoli è la città d'Italia che più ha una fonte energetica inesauribile, ma ci sono altri che sono già ricurvi e rassegnati a un declino del momento storico difficile, dell'economia che non trae, quindi noi abbiamo un trend positivo che ci siamo conquistati, adesso dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme per rendere Napoli più attrattiva.